Con l'inizio del tempo di avvento, il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha lanciato un appello accurato, pregare per la pace. In una lettera indirizzata ai fedeli, il Porporato ha chiesto che una speciale preghiera ispirata alle parole del Papa Francesco venga recitata ogni giorno, nelle celebrazioni, in famiglia e nel silenzio del cuore di ciascuno. Viviamo in una stagione segnata da violenza, guerre e dolore. Non possiamo abituarci alla convinzione che solo le armi risolvano i conflitti, ha dichiarato. Zuppi ha ricordato anche le parole del Pontefice, denunciando una regressione ad un infantilismo bellico che rischia di cancellare i progressi di maturità umana raggiunti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo messaggio, però, è anche una chiamata alla speranza. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene. Il Cardinale ha condiviso la preghiera per questo tempo di riflessione. Signore che ci hai creati e ci hai chiami a vivere da fratelli, dona al mondo la pace. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruirla. Il suo appello risuona come un invito ad un avvento di pace che guarda al Natale come simbolo di un rinnovato impegno per un mondo senza conflitti.